Credo che l'unica strada sia una discontinuità molto forte, è cambiata l'economia, è cambiato il mondo e noi ci dobbiamo adattare al mondo che cambia, perché questa è un'istituzione che deve creare valore e posti di lavoro per la città. Una presidenza all'insegna del cambiamento, del rinnovamento e della collaborazione fra i soci, intende così la nuova fiera del Levante di Bari, il neo-presidente Gianfranco Viesti, fresco di nomina anche il neo-segretario generale Leonardo Volpicella. Una nomina, quella di Viesti, sulla quale fin da subito non c'è stata unanimità di intenti, vedi la polemica con il presidente della provincia, Francesco Schittulli, ma anche con lui, oggi assente, Viesti parlerà. Viesti non nasconde le difficoltà dell'ente, ma ha deciso di accettare la sfida. Sono molto preoccupato, ha detto, e molto determinato. Preoccupato perché le condizioni oggettive della fiera sono complesse e molto critiche, elevati i costi fissi e basso il fatturato rispetto ad altre fiere italiane, quale quella di Rimini e Milano. La mia, continuato, sarà una presidenza diversa. I problemi sono numerosi, non mancano. Certamente quando ci sono i problemi ci sono anche le soluzioni. Tutto sta ad andare molto d'accordo con i soci, affrontarle insieme, trovare insieme le soluzioni e risolverle una alla volta. I soci dell'ente, cioè Regione, Comune e Camera di Commercio, hanno chiesto a gran voce il centro congressi. Secondo il sindaco di Bari, Michele Miliano, la fiera deve essere dei pugliesi e dovrà al più presto avere un accesso diretto al mare. Il governatore Vendola, infine, ha voluto rivolgere un grazie particolare al presidente uscente dell'ente Cosimo Lacirignola, ma con uno sguardo già protratto verso il futuro. Ho scelto Gianfranco Viesti perché ha la visione di quello che sta diventando il Mediterraneo, un incendio che sta bruciando tante cose brutte e vecchie, è forse la nascita di un mondo nuovo. Per noi è tutta salute. E la chiave per crescere, secondo il presidente uscente, è, e resta, il cambiamento. È cambiato il mondo, è cambiata la società e se noi ogni volta che parliamo della fiera non riusciamo anche a vedere quello che ci sta al di là della porta orientale o delle altre porte della fiera, perdiamo l'appuntamento con la storia. L'ho detto in tutte le lingue e continuerò a dirlo, lo dirò come cittadino perché non sono più presidente. Per cui è importante, dobbiamo cambiare, ma deve cambiare la nostra società, devono cambiare i comportamenti, deve cambiare tutto.